Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo una maglia dell'NBA, quella dei Milwaukee Bucks, l'edizione Swingman nella versione City Edition. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info.it A me la maglia piace molto. Nella mia classifica questa prende 4 stelle, sarà perché è anche uno dei miei giocatori preferiti dell'NBA. Qui in altro trovate il costo bassissimo per una maglia fatta molto bene, con ottime rifiniture, una buona vestibilità e tempi di spedizione più che accettabili. Vi ricordo che qui sotto, in descrizione, trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia, quindi andate a vedere quali offerte vi attendono. Ora, prima di lasciarvi la parte finale, mettete un grande like e iscrivetevi al canale. Vi ricordo che è l'unico modo che avete per farci crescere ed avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Grazie a tutti!